Così non c'è un al... Raga Raga ce l'ho Ce l'ho Si fanno le seghe Si fanno le seghe Si fanno le seghe È il momento del meme Se esce dalla Velox Ball Regalo 20 abbonamenti Oltre a quello che devo già regalare Grazie per il bit Mesonic Ok preso